Venerdì 28 ottobre è stata indetta una conferenza stampa per presentare lo spettacolo dal titolo Sono pronta, ogni donna ha diritto alla sua vita, che si svolgerà domenica 27 novembre presso la sala Auditorium Nicola Bocassino di Valdobbiadene. Il progetto è stato ideato e realizzato dalla Thea Righi Band, che, arricchita dalla presenza della ballerina Debbie Bigarella e dell'attore Franco Campanati, è così divenuto il Thea Righi Project. Uno spettacolo che affronta il tema della violenza domestica in tre specifici momenti, raccontando il sogno romantico, infranto e poi ritrovato di una donna vittima dell'aggressività del marito. Realizzata con la combinazione di musica, danza e teatro, la rappresentazione persegue lo scopo di trasmettere a tutte le vittime della violenza un messaggio di speranza, invitandole a reagire partendo prima di tutto da se stesse. L'iniziativa è l'ultima di una serie di eventi organizzati dal Tavolo Rosa, organismo tecnico-politico formato da sette comuni dell'area montebellunese, che anche quest'anno promuove alcune serate informativo-culturali dedicate alle pari opportunità, in occasione della giornata internazionale della violenza contro le donne, in programma per il 25 novembre. Gli appuntamenti sono previsti anche per giovedì 24 novembre, con la proiezione del film La vita possibile, al Cinema Italia Eden di Montebelluna, e venerdì 25 novembre, con la visione del documentario Nuguò, in nome della madre, presso l'auditorium di Piazza Bottani a Volpago del Montello.